Riqualificazione e rivitalizzazione delle zone portuali, laboratori di stimolanti, esperimenti e di innovative soluzioni, volte a recuperare una più alta qualità della vita. L'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale ha bandito un concorso internazionale di idee per la progettazione dei nuovi terminal crociere e terminal passeggeri delle relative aree di interfaccia città-porto, nell'ambito delle previsioni del piano regolatore portuale del porto di Palermo in corso di approvazione. Il bando è stato inoltrato il 15 gennaio scorso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e il 20 aprile scadrà il termine ultimo per ricevere gli elaborati. Il vincitore del concorso riceverà un premio di 77.000 euro, oltre IVE e ogni altro onere di legge, mentre al concorrente risultato secondo sarà riconosciuto un rimborso spese di 21.000 euro. Il bando di concorso è stato coadiuvato da uno studio sulla rigenerazione del waterfront urbano portuale, curato dal professore Maurizio Carta dell'Università di Palermo, secondo il quale l'elemento più connotante il futuro del porto di Palermo è quello di offrire una nuova relazione tra la città ed il suo mare, ribaltando la logica della barriera per proporre gli stessi nuovi terminal come la continuazione contemporanea degli assi urbani che connettono i monti al mare, lunghe dita che si protendono per stringere di nuovo il patto con l'acqua, diventando le nuove componenti del paesaggio della Palermo del futuro. Per liberare il fronte portuale e istituire nuove relazioni visive e funzionali in grado di integrare la città e il porto, il layout prevede la costruzione di due nuovi terminal che seguono parallelamente la giacitura dei moli e che insieme all'attuale stazione marittima e a un sistema di collegamenti pedonali in quota, sono considerati un unico sistema misto, in grado di rispondere sia alle più attuali e in crescita esigenze funzionali portuali, sia ad accogliere nuove funzioni miste rivolte ai cittadini e ai turisti, generando nuovo spazio urbano. Il molo San Muzzo è destinato a ospitare il nuovo terminal crociere, necessario per potenziare la vocazione turistica del porto di Palermo e accogliere navi di grandi dimensioni con l'obiettivo di candidare lo scalo palermitano a diventare un porto crociere capolinea. L'obiettivo prioritario dell'autority è quello di sviluppare i traffici portuali e le attività ad esso connesse, valorizzando al contempo il porto e il suo waterfront attraverso una strategia di sviluppo funzionale e competitivo in grado di soddisfare le nuove esigenze del ciclo trasportistico e rispondere alle richieste del mercato e alle sue rapide trasformazioni. Il presidente dell'autorità portuale di Palermo, Pasqualino Monti, commenta «La futura offerta portuale nasce da quattro precise fasi che riguardano nell'ordine la pianificazione, la programmazione, la progettazione e la realizzazione». Concluso il suo iter, dunque, il progetto accederà al reperimento dei fondi europei destinati all'infrastrutturazione dei porti.